Sì, questi sono i tesori di famiglia che mi piacciono. Hai tenuto le armature? Sapevo che saresti tornato. Probabilmente col culo in fiamme. Aspetta, lascia fare a me. Mi sembra di indossare una porta. Bene, deve essere così. Non ricordo il tuo nome. Kate. Ok, allora abbine cura, Kate. Ah, quella era di mia madre. Oh, cos'è? Mi dovevano un favore. Ah, a proposito. Probabilmente lo rivuoi. Ti ringrazio, Del. D'accordo. È ora di presentare il nuovo COG al vecchio COG e far sloggiare queste teste di latta da casa mia. Prendete quello che vi serve. Dovrebbe bastare per tutti. Oh, merda! Sfondano le pareti! Distruggeteli! Detenere tutti i versagli registi. Soprire. Un'altra box morta! Vengo! Prendi questo! Papà, qual è il piano? Dobbiamo arrivare al mio furgone! Fidatevi! Stavolta non la scapperete tanto faccio e meno. Maledizione! Lo avevo appena riparato! Nuovo piano! Distruggete quel che è! Sono su una di questa roba, sergente! Andateci piano con la casa! Distruggete i motori! Capito! Ehi, si sta ritirando! Di già! Sta finita! Credo proprio! Ah, diabide! Altre capsule! State scherzando? Puoi dire già di stai! Esiste indirettamente! Maledizione! Luisa, sta a cantare! Stavolta! Ehi! Sarà più di mezzo! Ehi! 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 Il cestro è tornato! Al riparo! Non avete via di scampo! Dove cavolo va? Smettete di distruggere la mia potente casa! Attenti, attirati! La vostra perseveranza è impressionante quanto seccate! Sì, l'abbiamo quasi presa! Maligio! A terra! Ratti in arrivo! Si! Si! Ciao, ciao! No, non specificare lì! Merda. Ottimo. Eh, papà, i COG ci stanno alle costole. Il tuo furgone è esploso e la casa è in fiamme. Hai un piano B? Sì, c'è un piano B, ma è giù in cantina. Prendete delle munizioni, andiamo via di qui! C'è un piano B, ma è giù in cantina. Venite, andiamo giù! Sfostamento illuminato. Versagli in actività. Attivate le modalità di te. Intagini su versagli nemici. Perfai! Eh, ragazzi? Questo posto sta per crollare! Scendiamo, presto! Abbiamo le munizioni. Alla cantina! Per un pelo. Papà, vicolo cieco, che facciamo? Ora non più. Fa drastica consoluzione. Seguitemi. Ma perché l'hai costruito? Per emergenze. Direi che questa vale. Sarebbe stato meglio se avessi aggiustato l'esterno. Si avrebbe proprio fatto comodo. Ragazzi, basta! Che ne direste di parlare, non so, dei mostri che sono appena scappati con tutti i nostri amici? Non appena usciremo da qui, ce ne occuperemo. Adesso andiamo. Con un po' di fortuna Jin ci darà per morti in quella casa. Controllerai in ogni caso. Poi ce ne occuperemo. Porca vacca. Come ho detto. Bentornato. Ok. Pare che li abbiamo seminati. Fagliamo dal giardino. Fuori! No, di sicurezza non li abbiamo seminati. Giardini mi arrivo! Sono pronta! Un'altra tutti morta! Capito! Altro Shepard è distrutto! Va! Pesati in arrivo! Capito in arrivo! Disoppenienza registrata! Le proprie nella vostra disoppenienza sono state registrate in India! Silenzio! Non saranno numerati comportamenti antisociali! Aiutatemi! Oh, ora sono incazzato! Levati di mezzo! Il suo scudo è fuori uso! Il suo scudo è fuori uso! Il suo scudo è fuori uso! Molto bene! Passiamo per la serra! Papà, dove stiamo andando? Al Capanno! Dove precisamente? Ma dall'altra parte della proprietà! Prendo io! Che! Al Cap! Sarebbe da lancio! Rovineranno i miei cazzo di pomodori! Inghaggiati! Altro botto! Cosa diavolo avete fatto, ragazzi? Era strano, ma... non ne abbiamo idea! Un altro sacco di distruzione! Capito? Un altro sacco di distruzione! Un altro sacco di distruzione! Un altro sacco di distruzione! Seguite il sentiero! Merda, eruzione di vento in arrivo! Torniamo tutti nella serra, presto! No, la taverna è un riparo migliore. Ci siamo quasi. Va bene, tutti dentro! Vai sull'altro lato! Forza, forza! Merda, capsule a riparo! Il portatore di pace di B, posizionato. Guardiani in arrivo! Ho distrutto l'unità! Capito! Elimina il suo scudo! Il suo scudo è qua tutta! Capito! Guardiani hanno distrutto! Sarò per me! Sontati i punti via così! Aspetta! Il suo scudo è fuori uso! Guardiani hanno distrutto! Sono finiti! Prima i miei pomodori! E ora questo! Papà, l'eruzione non molla! Dobbiamo spostarci! No! Ci rifugiamo qui! E aspettiamo che passi! Ma in questo edificio non c'è un quattroppo... Legno? Non cederà! Sei proprio sicuro? Non cederà! Merda! Condor! In arrivo! Ehi condor, va giù! Ehi condor, va giù! Ma... Non provate a fiatare! Non cred Brando... Ed è stato un incidente... non possojestano muovere così... Ma... non posso findseki, non fare più... Deve si uscita una strada... qui... Ed è stato un incidente... Andiate! Non ce la faccio da solo! Wow! Forza! Ah, quelle cose mi danno i brividi. Ricordo quando i tibi erano solo dei raccoglitori di rifiuti. Io ho detto la mia, vanno all'attivata lo scelto. Ma non è servito. Ora vanno a me. Attenzione, altri tibi! Vieni! Capito! Sì, appena! Un altro center distrutto! Sì! Un altro center distrutto. Un altro center distrutto. Un altro center distrutto. Ora sì che sono incazzato! Sono pronto! Sono pronto! Sono pronto! Sono pronto! Andiamo! Morda! Inizio in atto! Già! Di battaglia! Ehi! Lappi da me! Altro Shepard Morda! Ho capito! Prost! Ho capito! Fuori inizio in atto! Mi serviva! L'unità si sta arrivando! Ehi! Mi hai zappato! In retratta! Oh, merda! Ma si può sapere quanti bot possiede Jin? Davvero vuoi saperlo? Sarà una lunga notte. Vedi quel murino a vento? Siamo diretti lì. Pensavo cercassimo un capanno. È così, sono uno di fianco all'altro. È la proprietà della tua famiglia, Marcos? No, apparteneva alla famiglia della mia defunta moglie. A mamma piaceva qui. La fortuna non ha visto tutto questo. Allora siamo in due. Forza, ci siamo quasi. Non ricordavo quanto fosse grande qui. Sì, beh, al momento sta diventando stretto. Ehi, avete sentito? Un castel! Un castel! Un castel! Ti diverti, James? Certo, perché? Tu no. È sempre un piacere vederti. Quei due si comportano sempre così. Di solito urlano di più. Un castel. O offers. Non ci si tratta di un canale, Non ci si tratta di un canale, abbiamo una situazione con il canale. Di solito ero. No! Il l'agrita! Mi no!